Ecco, si parte, ecco che è la strada, guarda, guardate che strada, difficile di andare, però andiamo. Che strada Milena, guarda, stiamo passando, ecco cambia la marce e vado, che strada, guarda, difficile, adesso va bene, prima per salire, mamma mia, che strada, aia, 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 oh, oh, siamo arrivati, la strada veramente, qui brutta, qui veramente brutta, aia, io non sono una professionista di rally, sai, la macchina di rally, però vado, però vado, andiamo, andiamo a comandare, Neulash andiamo a comandare, andiamo a comandare, Mi giro come kebab, è una testa che gira come kebab, è una testa che gira come kebab, andiamo a comandare, andiamo a comandare, si spegne, non mi spegne, mi si chiase lì a lasciare lì, ragazzi, ma che cazzo fai? Bello, eh? Non so, 15, 4, 8, 10, 4, 8, 10, 4, 9, 10, la memangcate, Ecco, questa è la nostra montagna, Ok? Ho chiudato quasi? Due minuti! Aspetti, aspetti, aspetti. ok faccio piano perché è proprio bruttissimo veramente è bruttissimo e io vado è mia montagna questa io guido grazie dio che guida e fa l'attenzione anche qui guarda che belle alberi grande zio Tony Ametti io credo che Tony Ametti guiderà anche lui qui molto tranquillo molto bello mai veramente vado 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 arrivo 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 qui giro destra sinistra urca eccoci veramente ecco ecco stiamo arrivando verso la fine amici vi saluto ecco sta arrivando una Mercedes usciamo a passare usciremo a passare non lo so lui è fermato ci aspetta che noi passiamo grazie mille adesso firmo anche lui eccoci 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 Oldu, dur inim, dur inim.